La storia ha portata di tutti, grazie all'esperienza e al libro del procuratore generale militare della Corte di Appello, Marco De Paulis, che si è rivolto ai ragazzi aquilani a scuola per far conoscere la storia. Grazie al suo lavoro nelle procure militari, il magistrato ha individuato decine di autori decidi nazisti, tra il 1943 e il 1945, che sono finiti sotto processo e condannati in primo grado all'ergastolo. Un focus particolare sulla strage nazista di onna dell'11 giugno del 44, che causò 17 vittime e la distruzione del paese. Il procuratore nella sua giornata aquilana ha presentato anche un libro, è considerato uno dei maggiori esperti di istruttorie sui crimini di guerra, il volume si chiama Caccia nazisti e racconta 16 anni di indagini tra il 2002 e il 2018, interrogatori, sopralluoghi, esami dei testimoni, processi che hanno portato a oltre 500 procedimenti giudiziari contro i criminali di guerra nazisti e fascisti per gli decidi che hanno provocato oltre 20.000 vittime, fra cui mille solo in Abruzzo. Il libro è stato presentato dal giornalista Giustino Parisse ed è oggetto della trasmissione La Quella al Centro, che andrà in onda questa sera su Rete 8 alle 20.30. Il messaggio principale è quello della negazione, vorrebbe essere quello della negazione della guerra, dell'affermazione dei principi di umanità che dovrebbero prevalere su questo, perché attraverso la mia attività di oltre 16 anni sui crimi di guerra ho fatto, a mio malgrado, questo viaggio lunghissimo nell'abisso dell'orrore, della violenza sulle persone, sui bambini, sulle donne, sui inoffensivi. E quindi il messaggio che vorrei dare nel libro è quello di difendere valori di libertà, di pace, di democrazia su cui si fonda la nostra Costituzione e la nostra convivenza.